Ma a tal proposito mi aggancio per dire, se tu decidessi mai o dovessi mai andare come concorrente sull'isola, che ti direbbe Rosalinda? Magari ce lo facciamo dire a lei, che so, che tu magari bleffi. Sì, adesso la lachiamo questa lica. Rosi vieni? Rosi! Faccio dire a lei, vediamo un po'. Tieni la cuffia. Si passano la cuffia, adesso la cuffia, un giorno l'anello, mi puoi dirlo. Ecco Nicola, buonasera, ciao, che belli. Ciao. Scusate il look, ma sono un po' in versione. No vabbè, chi se ne creda. Ci piace, casual va benissimo. Ci andiamo il pigiama sotto. 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 No, la domanda qual era, Andre? La domanda era, no, appunto, se dovesse andare Andrea sull'isola, tu come la prenderesti? Poi, o si è onesta. No, no, vabbè, dico, non male. Non benissimo, sarei felice comunque per lui, per questa esperienza, però sarei un po' in ansia. Si sta venendo da piangere mentre lo dici. Si sta venendo proprio da piangere. Se facciamo il contrario, ma anche il contrario, se no, Valeria, scusa, anche al contrario, se dovesse invece partire Rosalinda, che direbbe Andrea? Eh, infatti, Andre. Ma io sarei il suo primo tifoso, quindi... Oh, ma pure se mi devo baciare con uno in una prova? Vabbè, mica tutti gli anni così. Eh, eh, eh. Scusa, io vorrei farvi dire che in realtà gli è andata anche bene a Sicilia con Ignazio, perché era un bacetto tutt'acqua che era appoggiati così, ma delle volte sono state delle prove dove si facevano con delle mele e arrivano a baciarsi con la mela in bocca. No, vabbè, dai, quello fatto tutt'acqua era tranquillo. Sì, diciamo che quello era un bacetto molto ingenuo, le altre prove che mi ricordo anche in altri anni erano un pochino più... più strong. Un po' più così. Per una coppia. Quindi diciamo che Andrea, vale, Andrea dice che sarebbe più elastico, ma in realtà solo perché pensa che non succederebbe niente di che, meglio lo dà che è più sveglia, cioè più luggimirante. Ha capito. Ma invece no, guarda che poi... Ha capito. E ti Andrea, tu hai frequentato anche un'altra isola, quella di Temptation Island, secondo te qual è la più, cioè qual è la peggiore, secondo te? Ma diciamo che Temptation Island mangi però poi il fegato, lo stomaco e il fegato un po' si rifiutano, quindi non saprei perché non ho provato l'isola dei famosi, ma Temptation Island a livello di stomaco è dura e non per immangiare. Sì, sì, no, no, ci ricordiamo, ci ricordiamo. Ci sono anche dei bei complimenti che arrivano da dei tweet, qua c'è Lela che dice oddio ma che belli che siete, quindi tranquilla. Allora, fai un po' di sbaglio, tranquilla che ti trovano bellissima. Che falsa. Ma voi due andresti mai a Temptation Island? Adesso Andrea mi ammazzo. Vale, basta, cioè lo ci ha dato mi sai, io già una volta lo faccio. Basta, è ancora troppo presto e non ci serve perché stiamo bene insieme, non c'è nessuna crisi, quindi potrebbe essere comunque un programma per chi è in crisi, sta insieme da tanti anni, quindi non ci vedo niente di male a parteciparci. Però adesso secondo me è prematuro, cioè ci godiamo la nostra relazione che inizia da poco. Grazie a tutti.